Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 3 km di code a tratti tra Massa e Versilia in direzione Livorno, sulla A1 per traffico intenso rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna e in direzione Roma per un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo, sulla A11 per viabilità esterna che non riceve code tra Sesto e Peritola in direzione Firenze, sulla Fipili code a tratti per traffico intenso tra Ginestra, Fiorentina e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Sulla regionale 2 Cassi a restringimento di carreggiata nei comuni di Barberino e San Casciano, Val di Pesa all'altezza del chilometro 270. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!